Allora, generale Capitini, ci aiuti intanto quando noi diciamo l'attacco era ampiamente telefonato, insomma è stato certamente plateale ma previsto e prevedibile e quindi ha consentito di reagire, diciamo una verità? Diciamo assolutamente la verità e va decriptato sotto tanti punti di vista perché ha messo in evidenza molte cose che molte delle quali sono state già messe in evidenza dagli ospiti. Primo di tutto ha fatto emergere le due alleanze, per anni, per decenni Israele ha ribadito il fatto siamo da soli contro tutto il mondo in questa parte del mondo che sarà con noi e invece scopriamo adesso che a parte gli alleati storici, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, c'è la Giordania, c'è l'Egitto, c'è l'Arabia, ci sono i paesi del Golfo Persico, c'è tutta quella cosa che va rubricata alla voce Accordi di Abramo che sta pensando di dire in cambio di sicurezza, armi e tecnologia noi saremo disposti ad un atteggiamento molto più morbido verso Israele. Dall'altra parte emerge l'altro gruppo che è l'Iran e i suoi alleati e se tu sei il capo di una coalizione grande e importante, credi di esserlo, ogni tanto devi scendere in campo tu ed è quello che ha fatto l'Iran, ha dovuto essere lui in prima persona, non Yuti, Hezbollah o chi per lui a fare delle cose così. È stato circoscritto nel tempo, quindi è un'azione assolutamente politica e poco militare, perché gli israeliani sanno benissimo che gli hanno tirato addosso poca roba, molto poca. Oh, e poca roba e tra l'altro con un tempo dal momento della partenza al tempo d'arrivo tale da poter essere ampiamente intercettata, se capisco bene, però io non ci capisco nulla di questioni militari. No, 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 noi abbiamo un po' un po' breve, ma sei mesi fa quando Hamas con tecnologia rudimentale rispetto a quella che è arrivata oggi ha saturato il cielo di Israele, la difesa era israeliana, non era stata in grado di fermarli tutti, semplicemente perché ne posso fermare 100, basta che ne tiro 101, quell'uno arriva. E quindi l'Iran gli ha detto, io ti faccio vedere, ti metto nelle condizioni di non fare una gran brutta figura, non me la fare fare a me, detto in modo così. Ok, ok, dopodiché l'Iran ha detto, per me va bene così, ma per Israele, diciamo, questa è una vittoria di difesa? Cioè Israele se la può vendere politicamente come una vittoria? Il 3,8% di abbattimenti, una coalizione che gli regge, dice veramente così, ce n'ha tanti di spunti per dire abbiamo vinto, c'ha anche spunti per far dimenticare che questa è stata dovuta al bombardamento di una sede diplomatica, non di un posto, ma di un'ambasciata che non dovrebbe essere proprio normalissima come azione di guerra. Ma qui veniamo alla questione della deterrenza di cui diceva Peter, Peter vuoi rivolgere direttamente tu la domanda? La domanda è doppia, io ho letto da una parte che Israele segue una dottrina che era una dottrina di Moshe Dayan che viene definita la dottrina del cane pazzo, cioè se mi colpiscono la mia reazione è talmente spropositata che tutti gli altri penseranno non andiamo a disturbare il cane che sta dormendo. E in fondo questa l'abbiamo vista, secondo me, in parte molto nella striscia di De Grasa, 1.400 morti o l'orrore e poi 34.000 morti civili eccetera, un segnale fortissimo. Dall'altra abbiamo Israele che è una potenza nucleare, è l'unica potenza nucleare della zona. Avere la bomba atomica oggi basta per un paese come Israele per scongiurare gli attacchi veri o no? Dipende dal nemico, dipende da quanta paura si mette il tuo nemico. Per nazioni evoluti e normali uno che ha la bomba atomica eviti accuratamente di andarlo a infastidirlo. Però dipende chi è il tuo nemico da quel punto di vista. La teoria della deterrenza totale in questo senso è già caduta con ottobre e sta ancora cadendo perché tutto sommato dal punto di vista tattico, c'è sul terreno, la campagna di Gaza non è un successo strategico, non è un successo per Israele. E questo va rimarcato. Altri personaggi in campo, uno sicuramente Biden. Che Tiziana sta cercando di allargare la coperta della diplomazia, tant'è che ospiterà questa sera la Casa Bianca al Sudani, che è il premier dell'Iraq, per cercare di capire anche la posizione di un altro degli attori chiave della regione. E pochissimi minuti fa arriva tra l'altra presa di posizione quella di...